Non sarà ridotto il personale del CUP dell'ASL di Chieti-Lanciano-Vasto. I posti di lavoro degli operatori del centro unico di prenotazione non sono stati mai a rischio. È la posizione della direzione strategica dell'ASL di Chieti-Lanciano-Vasto in merito alla vicenda legata all'imminente passaggio di gestione del CUP a consortile CUP Abruzzo che avrebbe comportato tagli al budget e di conseguenza le unità occupate. Il nuovo gestore del servizio, che si è aggiudicato l'appalto regionale, subentrerà al più presto e comunque presumibilmente entro novembre. Saranno assorbiti tutti i 134 lavoratori attualmente impiegati nel sistema di prenotazione, prevedendo comunque una rimodulazione degli ambiti di attività al fine di rendere più efficiente il servizio e aumentare il numero delle prenotazioni stesse. La questione, si legge in una nota della ASL, è stata chiarita nel corso di un incontro a cui hanno preso parte, tra gli altri, il direttore amministrativo ASL Gianpaolo Grippa e l'amministratore delegato della consortile CUP Abruzzo Mario Bonavoglia. Centrale nella discussione è stata la necessità dell'ASL di rivedere la propria organizzazione nel sistema delle prenotazioni per via di una dotazione di personale attualmente sovrabbondante nel back office. Dobbiamo puntare a migliorare i risultati aumentando le prenotazioni, ha precisato il direttore amministrativo, ed è prerogativa di una direzione aziendale allocare le risorse sulle articolazioni che fanno registrare maggiori criticità. Ho chiesto perciò alla società una ridistribuzione delle unità contrattualizzate perché occorre potenziare l'attività di accettazione con un obiettivo trasformare i contatti in prenotazioni e ridurre ulteriormente i tempi di attesa.